Il giudice monocratico Anna Bonsignorio del Tribunale di Imperia questa mattina ha condannato a un anno e due mesi di reclusione William McKinnis, il velista americano che nel raduno di veledepoca del 2014 sparò un razzo che colpì al volto l'imperiese Sergio Salvagno causandogli lesioni permanenti. Il giudice ha disposto la sospensione della pena condizionata al pagamento entro nove mesi di un anticipo di danni alle parti civili. Il totale dei danni dovrà essere quantificato in un giudizio civile separato da quello appena concluso. Il giudice ha disposto un risarcimento provisionale di 100 mila euro nei confronti di Fulvio Salvagno, fratello di Sergio, 160 mila euro per la figlia Anita, 40 mila euro per la moglie Silvana Lomonaco e ancora 100 mila euro per la madre di Sergio Salvagno, Anna Maria Borsotto. Il legale che rappresenta la famiglia Salvagno ha chiesto danni per un milione di euro. Grazie a tutti.